Parte da Napoli il primo master universitario interdisciplinare di Ateneo in Pet Therapy mai organizzato in Italia è promosso dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli coordinato dalla professoressa Lucia Francesca Menna della Cattedra di Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria. Il percorso formativo di secondo livello che è presentato nel corso di un convegno presso l'Aula Magna e l'Orto Botanico punta all'obiettivo sulla zooantropologia esperienziale ovvero sul binomio un uomo-animale per il lavoro con questa terapia che integrerà forse e coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da differenze e patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico emotivo. I vari aspetti del tema sono stati trattati dai professori Paolo Amodio di Lettera e Filosofia ad Alberto Amerighi della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino e Luigi Baldascini dell'Istituto di Psicoterapia Relazionale. Il bando per partecipare al master patrocinato dal gruppo Giovani Imprenditori di Napoli della Campania e della Basilicata sarà pubblicato il 31 agosto con scadenza 31 ottobre. I corsi saranno quindi ospitati dall'HK Resort.